Il Comune di Foggia prova a diventare sempre più una Smart City, un passo realizzabile attraverso per esempio il progetto Smart Go City presentato alla Regione e che prevede l'attivazione di 5 nuovi autobus a trazione elettrica in linea con i principi della transizione ecologica per l'utilizzo su altrettante linee di cui 3 già esistenti e 2 di nuova istituzione. Il progetto è illustrato dal Comune di Foggia al partenariato socio-economico, dunque sindacati e associazioni di categoria, per aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. Una proposta finalizzata al rinnovo del parco auto del trasporto pubblico locale urbano, articolato il sistema ipotizzato nel piano che prevede una linea Airbus di collegamento diretto tra il centro cittadino e l'aeroporto Gino Risa. L'altra nuova linea è quella denominata Speciale Università, pensata soprattutto per l'utenza studentesca, per collegare tra di loro tutti i poli universitari della città, incluse le sedi del Comune e della provincia. Tra le linee esistenti interessate dal progetto Autobus Elettrici c'è quella che riguarda la linea 1 di collegamento tra il Terminal Bus e il nuovo Policlinico Riuniti, per la valorizzazione del nuovo centro ospedaliero, nato dall'ampliamento e dalla ristrutturazione degli ospedali riuniti. Tutti e cinque gli autobus previsti nel progetto saranno dotati di strutture portabici, con partenza prevista dal Terminal Bus ubicato nella zona ferrovia, luogo di ubicazione anche della velo stazione del Comune di Foggia in fase di ultimazione. Una strategia pensata per consentire una facile integrazione del trasporto pubblico locale, con la mobilità dolce, grazie anche ai molti chilometri di piste ciclabili presenti in città. Inoltre, gli autobus previsti nel progetto saranno realizzati in parte con materiali eco-compatibili. Il valore complessivo del progetto è di circa 3 milioni e 100 mila euro.